Il Moffat, o Museo Open della Foresta Fossile, è un progetto che la cooperativa di comunità sorgente, tra l'altro la cooperativa di comunità prima in Umbria che viene fondata, assieme all'amministrazione comunale di Avigliano Umbro, ha attivato per la musealizzazione del territorio. Cioè è un progetto anche innovativo, quello di lanciare tutte le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, ma anche architettoniche e nonché archeologiche e storiche del comune di Avigliano Umbro. Un progetto che, come tutti i musei, ha anche un lungo corridoio, il sentiero dei Sensferi Desti, un percorso di circa 50 chilometri percorribili sia a piedi che in mountain bike per 365 giorni all'anno e che dà la possibilità ai visitatori di unire così la visita alla foresta fossile alle bellezze naturalistiche, paesaggistiche del nostro territorio.